Siamo qui a Trevi, ho visitato la struttura riabilitativa, ho trovato un'ottima struttura piena, è la cosa che mi fa piacere ai pazienti, nel senso mi fa piacere dal punto di vista terapeutico, di presa in carico, di terapia, grandi professionalità, ottime apparecchiature per cui confido una sanità in questo territorio riabilitativo che è all'eccellenza e che possa portare i suoi frutti anche come esperienza in tutta l'Umbria. Ho fatto molto piacere la visita del commissario di Fido perché ha apprezzato la nostra struttura e noi come amministrazione comunale saremo sempre vicini al centro di riabilitazione con la AS2 e per poter fare di questo centro sempre un centro importante per la nostra regione.